Questo è un problema estremamente caro a me, quale sindaco, e ai vari assessori alla viabilità e alla sicurezza. Però dovete sapere che Vietri ha un assessorato alla legalità, ricoperto dall'avvocato Antonietta Raimonti, la quale ha organizzato in più occasioni dei seminari di studi e principalmente nelle scuole. Il rispetto delle regole per noi è basilare, serve per far crescere in maniera sana le giovani eleve, come per far crescere l'intero territorio, l'intera comunità, l'intera collettività. Ovviamente noi abbiamo una fortuna, ovviamente questo comporta anche un sistema di controllo. In un territorio che è estremamente fortunato, in quanto il 99% è formato, il tessuto socio-economico del territorio di Vietri è formato a 99% di persone per bene. Però onde evitare che si possano incuneare delle persone, ma non di malaffare, che possano creare un poco di problemi. O che quell'1-2% che attualmente sta in bilico su quello che è la fascia di demarcazione fra l'illegalità e la legalità, ma diciamo più tra l'illegittimità e la legalità. E allora ovviamente noi abbiamo pensato di mettere queste videocamere partecipando ad un progetto, perché tra l'altro per il Comune è a costo zero. E tutto quello che è a costo zero viene apprezzato due volte nel Comune di Vietri, perché poi portiamo anche a combimento le opere, come nel caso di Specie. La cosa invece peculiare all'interno di questo progetto è il sistema Wi-Fi. Wi-Fi che nella zona di Selene diventa più difficile praticare, non fosse altro per l'apertura delle bande, perché è una zona dal punto di vista territoriale, è chilometrica, è interminabile. Qui invece proprio la situazione orografica a Conca ci dà la possibilità di organizzare il Wi-Fi su Vietri Cavolucchi, su qualcuna delle frazioni, perché le altre non possono essere servite da ponto e ce ne dispiacciamo, però ovviamente ci organizzeremo per servire un poco tutto il territorio. Wi-Fi che in via sperimentale, promozionale e temporanea sarà garantito per un'ora al giorno ai cittadini di Vietri Capoluogo. Poi vedremo se riusciamo a contenere con i costi, se il sistema va bene, lo amplieremo all'intera giornata con risparmio mensile di tutti gli utenti di internet di 20 euro al mese minimo. Quali strani saranno invece interessate per quanto riguarda la videosorveglianza? La videosorveglianza prevede sette videocamere nel corso Umberto I, primo due videocamere nella frazione Marina, due videocamere però con il sistema di videoregistrazione nella località Iacondi, laddove abbiamo una situazione dal punto di vista di sicurezza un poco più particolare e un poco più, non dico pericolosa, però da, come usano i termini gli agenti di polizia, da attenzionare di più e quindi noi presteremo maggiore attenzione nelle zone laddove ci può essere qualche focolaio. E quindi facciamo questo tipo di intervento, tanto è vero che abbiamo invitato anche il comandante della stazione dei carabinieri di Vietri sul mare, di concerto con le autorità di polizia. Non fosse altro perché si deve innescare, già c'è, un'azione sinergica, nel senso che noi dobbiamo dare delle strutture e dei meccanismi in grado di poter coadiuvare e essere messi a supporto e a disposizione del Wi-Fi su Vietri Capoluogo e su qualcuna delle frazioni, perché le altre non possono essere servite da ponto e ce ne dispiacciamo, però ovviamente ci organizzeremo per servire un poco tutto il territorio. Wi-Fi che in via sperimentale, promozionale e temporanea sarà garantito per un'ora al giorno ai cittadini di Vietri Capoluogo. Poi vedremo se riusciamo a contenere con i costi, se il sistema va bene, lo amplieremo all'intera giornata con risparmio mensile di tutti gli utenti di internet di 20 euro al mese minimo. La videosorveglianza prevede sette videocamere nel corso Umberto I, primo due videocamere nella frazione marina, due videocamere però con il sistema di videoregistrazione nella località Iacondi, laddove abbiamo una situazione dal punto di vista di sicurezza un poco più particolare e un poco più, non dico pericolosa, però da, come usano i termini gli agenti di polizia, da attenzionare di più e quindi noi presteremo maggiore attenzione nelle zone laddove ci può essere qualche focolaio. E quindi facciamo questo tipo di intervento, tanto è vero che abbiamo invitato anche il comandante della stazione dei carabinieri di Vietri sul mare, di concerto con le autorità di polizia. Non fosse altro perché si deve innescare, già c'è un'azione sinergica, nel senso che noi dobbiamo dare delle strutture e dei meccanismi in grado di poter quadruare e essere messi a supporto a disposizione dell'autorità di polizia per le eventuali intagini.